dentro ha visto il postulato fuori ciao a tutti i gamers e bentornati sul canale di GioKinXGen ragazzi siamo tratti qui su MyClub TPS con ogni lunedì alle 14 ragazzi questa è la classifica come vedete di una sconfitta per 3 a 0 che nel precedente episodio non avevo ho iniziato a registrare ragazzi è la partita all'improvviso non mi ha dato problemi di lag questa volta all'improvviso è caduta e mi ha dato la sconfitta per 3 a 0 quindi non so se sia stato un problema di connessione o se ragazzi ci usano qualche trucchetto, qualche programmino perché mi sta venendo questo dubbio perché la partita che cade all'improvviso e anche la sconfitta a tavolino è strano quindi ora ho solo 4 partite per fare 4 punti per andare in divisione 5 e ci proverò già in questo episodio sperando che non mi capitano cose del genere che ragazzi andiamo subito a vedere chi sarà il nostro primo avversario del giorno eccoci qui giunti ragazzi con il nostro primo avversario valutazione 399 noi abbiamo valutazione 384 vedete a Inzaghi e Benzema in avanti ci sarà un salato di Enas e Ndei poi Roberto Carlos Terry De Michelis, Raffaele e Cech quindi ragazzi una formazione fortissima io ho la stessa formazione dell'episodio precedente che vedete lì ok ragazzi andiamo subito nel match l'AM la mette dentro colpo di testa qua su Laro bravissimo dentro verso Mattia destro che prova la pinta ancora destro destra ancora sentire il gol passiamo in vantaggio Mattia destro 1-0 per noi subito 1 Betto ci porta su 1-0 attenzione qua ancora Baggio Baggio vallata assurdo ragazzi vittoria vittorio vittorio attenzione spazio ecce attraversa fuori scoperta attenzione qui ancora bravissimo con Nigel Deos fermiamo tutto grande intervento di Nigel mascherano ma insati c'è il pareggio c'è il pareggio ragazzi mascherando veramente fuori posizione 1 pari dobbiamo ripare tutto perchè va male in contrasto attenzione con il tiro ragazzi ma che cosa è questo dai ma che cosa stai combinando niente da fare ragazzi 2 a 1 siamo soffi dobbiamo recuperare e io ancora Baggio Baggio è solo Baggio il pareggio arriva il pareggio 5 minuti ci riportiamo di due pari Roby Baggio la leggenda adesso anticipato ancora adesso verso Varseroy Vandowski che è fintrato le Vandowski gol 3 a 2 ci portiamo in vantaggio nuovamente ribaldone non ha un tazzo lo ricordate lo sento dentro ha visto lo Sturaro fuori lo Sturaro fuori di quanto ragazzi potevamo fare il 4 a 2 Robert salza il proprio marcatore ancora Robert è un cararmato ragazzi è un cararmato per dentro per dentro c'è il gol 4 a 2 stiamo pressando sanguinissimo 4 a 2 per noi ragazzi ha fatto tutto Robert ancora Robert Lewandowski al tiro proviamo il tiro Robert al tiro il gol 5 a 2 cararmato Robert Lewandowski o c'è questo è il suo cararmato che è infermato ragazzi il primo conto del primo vedete non viene fermato e finisce il primo tempo il primo tempo combattuto che abbiamo portato al nostro favore vediamo come andrà il secondo tempo e qui sono i tiri nuove noi e quattro risultati i nostri avversari no 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 palo palo che scortuna per il nostro avversario palo verso cararmato 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 sempre cararmato il tiro il gol mamma mia ragazzi e qui cala il sipario cararmato Lewandowski che gol ragazzi che gol sarà dentro e qui ok ragazzi la partita si è interrotta doveva aver quitato il nostro primo avversario Ok ragazzi, la partita è stata vannata perché l'avversario si è disconnesso, vittoria, saliamo a 394 di valutazione e siamo salvi, quindi andiamo a 15 punti, ci basta un altro punto per poter andare già in divisione 5, che ragazzi andiamo a vedere chi sia il nostro secondo avversario. Ok ragazzi, eccoci alla seconda partita del giorno, il mio avversario ha valutazione 376 contro i miei 394, vedete, ha Inzaghi, quindi la leggenda, Payet, Vitolo, Benzema, Tassania, Kucca, Tisci, Giacobbsen, Laporte, Luiz, Eduardo e Prasid in porta. Io ragazzi, per questa partita vi si manca solo un punto, ho voluto per un'azzardo e ho messo una formazione totalmente rimaneggiata. Revandowski l'ho lasciato, l'unico titolare per il nostro calarmato, poi ho messo Neymar, Robert Pereira, Van Ginkle, Carmona, Blind, Kolarov Godin, Mangalà, De Sciglio e Leali. Che ragazzi, quindi andiamo subito nel secondo match, andiamo a vedere come andrà. Eccolo ancora di subito con Izaghi, bravo Mangalà, proprio Izaghi, riesce a filtrare, bravissimo Mangalà. Qua è l'oraccio, Dio, l'ho visto qui, con il pallone messo dentro, andiamo subito rischiando ragazzi. Ancora Carmona, bravissimo, qua dentro, che gol, signori, che gol, che gol, signori, è un gol, è un euro gol per sto qui, Robert Lamagin, il Robert Shatton con il progetto. Mamma mia ragazzi, questo ve lo farò rivedere, visto che il nostro avversario ha tolto il replay, ve lo farò rivedere in fase di Edith, che gol. Grandissimo lavandino, ancora palla per lui, il pallone messo fuori, messo male, c'è il tiro fuori di pochissimo. Il pallone dentro, ma come fa il pallone? Ma come fa il pallone? Ma come fa ragazzi a togliere il pallone così che l'aveva già presa? Spesso mi sapevo che mi devono spiegare quello di te, gli giocatori sembrano entranti, non so che cazzo gli succede. Il tiro, ancora le ali, che è l'unico reattivo. Ma bravo Mangalà, il pallone messo dentro. Eh ragazzi, questo sarà un partito di grande sofferenza. Se ne fa Gart Van Ginkl, dentro. Neymar al giro, il palo, il palo, niente. E poi la palla di maneghi e il gol in pace del mondo per il nostro carro armato. A piano sofferto, non scelgo proprio su 2 a 0. Catenato Neymar. Dentro verso il carro armato. Lewandowski al tiro 3 a 0. Il carro armato è infermante. 3 a 0 per noi. E finisce il primo secolo. Dunque il primo tempo sofferto ragazzi, devo essere onesto, anche se la mia squadra non è ovviamente ben amalgamata. Siamo fatta da molti giocatori che non giocano quasi male. Vedete, 4 tiri pali. Però la differenza è che 3 metri vi sono andate qui nel rete. E qua, bravissimo marchi di ciglio. Dentro ho visto lo scasso di Neymar. Neymar, numero di Neymar. Neymar ancora. Neymar, Neymar, è scatenato Neymar. Non viene fermato con il special goal. Che cosa ha fatto Neymar? 4 a 0 per noi. Neymar. Dentro verso il carro armato. Cararmato. Cararmato ancora. Cararmato, Dio, l'annotti. Goal. Mamma mia ragazzi. Che gol di nuovo verso la cararmato. Che Dio ragazzi. Stava per sfondare la prova. 5-0-2 a 1. Lewandowski al tiro. Fuori di pochissimo. Qua Lewandowski. Che prova il tiro al volo. Allora quella fitta non è nostra con Neymar. Che prova subito il tiro nei mano. Fuori di pochissimo. Questa partita avrà abbandonato. Perché la connessione. Ragazzi dovrebbe aver quitato. Vabbè però hanno inutili proprio finali. Vediamo. Ok ragazzi. Il nostro avversario ha quitato. Come detto. Perché è stato abbandonato. Poi che l'avversario si è disconnesso. Vittoria. Dunque la partita è ormai finita. E quindi passo a valutazione 403. Ecco qui ragazzi. Siamo in divisione 5. Vedete 18 punti. Ne bastavano 16. Ok ragazzi. Con questo ho concluso. Vi invito come sempre a lasciare un like. A commentare se volete dimmi qualcosa. Conoscete il video. Se avete fatto ragazzi. Non mi piace. Iscriviti per il canale. Considerate anche questi amici. Di sotto come sempre. Vi invito sempre. Ormai. Pratico di social network. Noi ci vediamo al prossimo video. E vi do un giorno. Nel tappo a pretto. E show gamers.